Siamo con mister Panico, uno 0-0 qui a Forio, un punto che muove la classifica per il Monte Calcio e resta comunque nelle zone altissime della classifica. Come ha visto insomma questa cassa? Obiettivamente non è stata una bella partita, è stata una partita di poca qualità. Loro avevano delle assenze importanti e noi avevamo delle assenze importanti. Penso che il risultato di parità sia il risultato giusto, anche in superiorità numerica noi non abbiamo prodotto quello che potevamo produrre. Abbiamo avuto poca qualità negli ultimi 30-40 metri. Un punto che muove la classifica, obiettivamente mi aspettavo qualcosa in più nei 30 minuti finali quando siamo andati sopra di un uomo. Noi facciamo fatica ultimamente a produrre azioni importanti, ci manca qualità negli ultimi 30-40 metri. Molte volte sbagliamo scelte, molte volte sbagliamo situazioni, tipo chiedo ai miei calciatori di girarsi e di puntare. Parecchie volte invece torniamo dietro, chiedo anche di calciare, parecchie volte facciamo un tocco in più dando la palla al compagno. Ci vuole un atteggiamento più di personalità negli ultimi metri e bisogna ambire a vincere le partite anche con una giocata del singolo. Perché a questi livelli qua è fondamentale. Noi abbiamo i rosa giocatori che possono spostare la partita. Oggi purtroppo non l'abbiamo fatto e dobbiamo modificare qualcosa nel futuro sicuramente. A noi la società ha chiesto di fare un campionato importante ma tranquillo diciamo. L'obiettivo non era fare i playoff, ora ci troviamo in ballo, siamo in lizza, siamo quinti, stiamo facendo un lavoro straordinario. Anche con tante assenze perché in quest'ultimo periodo tra infortuni e squalifiche abbiamo avuto parecchi giocatori fuori. La società è una società sana, giovane, che non ci fa mancare nulla. Il presidente è una persona di livello, la squadra mi segue. Stiamo cercando di fare qualcosa di importante per la città, per il paese e per la gente di Montediprocida.